La provincia di Arezzo resta in zona rossa anche per i prossimi sette giorni e così il periodo di misure più stringenti che sarebbe dovuto terminare questa settimana si allungherà nuovamente, questo quanto deciso dal presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Resteranno così chiuse anche per la prossima settimana le scuole di ogni ordine grado con la didattica solamente a distanza, come restano abbassate le saracinesche dei negozi che non rientrano tra le attività non essenziali, ancora poi una settimana di stop alle attività di parrucchieri ed estetiste, nulla invece varia per bar e ristoranti relegati ancora all'asporto e al domicilio, aperte invece di cole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Permane infine il divieto di spostamenti anche all'interno del proprio comune se non per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità e comunque servirà l'autocertificazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.